Ciao a tutti ragazzi, mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Italian Farm stagione 2 Allora, come vedete qua stiamo continuando, anzi, tutti i lavori, stavo per dire, ci siamo avviati con l'aratura Ma in realtà stiamo continuando l'aratura, in realtà sta facendo un lavoro abbastanza di cacca Il nostro pilota automatico, l'avevo messo in questa direzione qua prima, ha fatto queste prime due righe e ha deciso di girare Vabbè, fa niente, fa niente, fa niente, fa niente Nella scorsa puntata, che in realtà era una live, abbiamo letamato e abbiamo arato Tra l'altro ci ha fatto compagnia anche Giuliano, quindi è stata una puntata in multiplayer, è stata molto carina Questo campo è stato letamato e per questo c'è il nostro gnuola che lo sta arando Oggi, 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 allora io avevo una cosa in programma che non posso fare Nonostante siamo già in autunno, come vedete dalle foglie degli alberi e vi dicendo Quindi questo vuol dire che la nostra serie si sta avviando verso la fine, ve l'ho già detto Voglio chiuderla con l'ultimo giorno di inverno No, beh, con il primo giorno di... non mi ricordo quando è che finisce l'anno Ah no, tecnicamente qua l'anno finisce con l'ultimo giorno di inverno, ok Quindi lo finiremo probabilmente con l'ultimo giorno di inverno Questa seconda stagione di Italian Farm Ci sono ancora un paio di cose da fare, una non possiamo farla oggi, che sono le barbabietole Però, appunto, adesso lo sapete, la vedrete poi in una delle prossime puntate probabilmente Appena si sbloccheranno, perché in realtà ci sono, sono seminate Ve le faccio vedere Vedete qua, campo 6, 7, 57, 40, 11, 13 Ci sono le barbabietole, non sono ancora cresciute E... boh, non so quanto aspettano Tecnicamente dovrei... sarebbe questo il periodo di raccolta Anzi, sarebbe ancora prima, no? In Italia si raccolgono da metà Estate in poi Nei paesi nordici, diciamo La cosa migliore è raccoglierle nell'autunno E vabbè, fa niente Qua vedete il nostro Fend 1050 Che oggi non penso utilizzeremo Perché andremo a fare un'altra lavorazione E... beh, partiamo subito col dire che lavorazione andiamo a fare oggi Allora, andiamo qua nella zona delle trebbie Nella nostra zona delle trebbie Prendiamo la nostra Fiatagri AL 3550 E... no, anzi Fiatagri 3550L, non Fiatagri AL 3550 E... mi sono dimenticato dov'è che ho messo la mia barra Potrei addirittura non avere la barra Dovrei ricomprare tutto? È possibile Adesso facciamo un attimo, un giletto, controlliamo Perché adesso che ci penso forse l'ho venduta e non l'ho ricomprata Adesso vediamo Ok, qua l'allevamento delle bacche continua ad andare a grande ritmo Come vi ho detto nella live, mi sono portato avanti Per cui adesso abbiamo un sacco di capi lì dentro C'è un sacco rispetto a quello che faccio normalmente Ok, sono 552 bacche abbiamo Come vedete cerco di tenere al massimo Però vedete che sono proprio tanti litri Tipo, che ne so... 100... o prima avevo fatto 200.000 litri di razioni miste Che non sono uno scherzo contando che una balla tiene solo 3.500, 4.000 Adesso non ricordo più in questo farm in quante che valgono Comunque, appunto, potete immaginare quante razioni miste ho dovuto fare E... niente, non vedo barre da nessuna parte Quindi le compriamo da capo Però appunto sta continuando a galoppare E la cosa bella è che ci rendono circa 60.000 euro al giorno in latte Che signori, è tanta roba, tanta roba Qua come vedete c'è la trincea che ho già aperto Ho messo il nastro Perché dovendo fare così tante razioni miste E visto che lo facevo a camera Tra virgolette non dovevo essere reale Nel senso che non lo mostravo in video E quindi diciamo che mi bastava essere il più veloce possibile Col nastro, tanta tanta roba Perché appunto abbiamo questa roba qua Che non è... non ha la sua coclea E vi dicendo, è boh Per quanto riguarda il biogas Prima di iniziare Giusto per fare un piccolo recap Prima di iniziare la puntata di oggi Ecco qua, perfetto Anche qui per il momento mi sono affidato ai nastri Perché sono comodissimi Qua c'è un sacco di insilato Io mi sono ritrovato in difficoltà economiche Ho anche fatto un piccolo debito Per comprare questi nastri Ma adesso si stanno ripagando tranquillamente Come vedete tenendo il tempo a 1 per Mantengono la fossa del biogas sempre attivo Ora, lo so, questa non è una cosa realistica Infatti le prime palate le ho fatte con questa qua Che è la nostra nuova pala gommata Non so, l'avete già vista un sacco di volte In Profarmi stagione 7 L'avete vista In realtà c'è del DLCJCB Quindi l'avevamo già vista anche su Farme Subletter 15 L'avevamo già vista un sacco di volte Quindi è inutile che ve la rimostri di nuovo E quindi l'ho comprata off camera Qua vedete che non sta prendendo forse bene Di lì Vabbè, per il momento lasciamolo così Comunque come vedete qua c'è un nastro piccolo Come abbiamo già visto in Profarming stagione 7 Un nastro piccolo che prende Un paio di nastri di trasporto Qui al fondo in realtà non so perché ho preso questo Probabilmente avrei potuto anche semplicemente Mettere un altro di questi qua Effettivamente vale la pena perché è molto più lungo Quindi anche qua sul dritto Forse valeva la pena metterne uno di questi qua Un po' più lunghi Però vabbè Tanto noleggiandoli non costa niente Rispetto a quello che guadagniamo Vi faccio vedere a quanto siamo Siamo a 468.000 euro Come vi ho detto c'è stato un momento in cui ero a 30.000 Quindi fate voi i conti Per adesso sui 400.000 euro di insidato Tramite biogas ce li siamo già fatti E quindi Scusate c'è questo bug che non ho ancora capito come mai Ok E quindi vedete che comunque metà trincea E ne vale la pena Questo è bello perché noi lavoriamo e loro vanno avanti Soprattutto se uno tiene il tempo a uno per Qua la trincea La trincea la buca non si svuota completamente E non si riempie completamente E quindi in realtà il prezzo Il valore dell'insidato non scende Non sto ad approfondire questa mia affermazione Chi di voi ha seguito la Profarm di stagione 7 Si ricorderà il vantaggio grosso Relativo ai prezzi al biogas Di utilizzare i nastri Bene allora Questa qua è la pala gommata Niente vi ho fatto vedere tutto questo Ma torniamo a noi Torniamo a quello che facciamo in questa puntata Che riprende Purtroppo adesso Profarming E Italian Farm Vanno un po' di pari passo Con gli argomenti Mi sono ritrovato casualmente A dover fare un paio di puntate Ehi Scusate eh Torno alla mia dimensione Naturale Vanno un po' di pari passo Con cose che abbiamo visto in entrambi Cercherò di Non annoiarvi troppo Con cose già dette Allora Compriamo prima di tutto La testata Per la nostra amica Questa nuova Sì questa nuova Questa fettagri Ha una sua testata Che è la zaffrani Che è una testata da girasoli Perché oggi andiamo a tagliare i girasoli Non costa molto Quindi La compriamo tranquillamente Ok Voglio andare a vedere un attimo I rimorchietti mi pare siano quel fondo Perché mi sa che Il suo rimorchietto E no Eppure mi dice che ce l'ho Chissà dove l'ho lasciato Scusate ragazzi ma Se mi dice che l'ho comprato In teoria dovrei averlo Da qualche parte Allora Ah Forse l'avevo lasciato qui Sì era qui Va bene Compro un altro per sicurezza Sì Ne compro un altro Così le teniamo separate Ecco qui Perfetto Poi andiamo A comprare Un nuovo trattore Visto che molti di voi Me lo chiedono Anche qui ci avviciniamo Un pelo A Quello che è lo stile Di Profami In quello che stiamo per vedere In Profarmi Stagione 8 Però va bene Lo stesso Ci compriamo Un John Deere 6R Allora Io ti direi Front Hydraulic Direi di sì Come potenza Prendiamo Il 6210R Che è un Mezzo Molto famoso Veduto In un sacco di esemplari Configurazione delle ruote Pneumatici larghi Vi direi E Colore dei cerchioni Le teniamo standard Lo compriamo Lo compriamo Non vorrei dire Ma potrebbe essere L'ultimo trattore Che compriamo In questa stagione Perché Ci sono talmente Pochi episodi E voglio comprare Altre cose Per cui Probabilmente Non ne compriamo Altri E Sinceramente Avrei voluto Comprare il selvatico Ma magari Lo prenderemo In una delle prossime puntate Quindi Comprerò Il Valzelli Che abbiamo già visto Ma che voglio prendere In versione verde Gialla Visto che ci sta Direi che andiamo Sulle Michelin Come pneumatici Adesivi Gialli Va bene Ok Bene Direi che possiamo Fare che Comprare anche questo Ok E ci facciamo Consegnare Tutto in azienda Andiamo qui Qua Perfetto Spero abbiate visto L'ultima puntata Di pro farming La scorsa puntata Di pro farming Uscita martedì Lì ho spiegato Perché c'è stata Una settimana Senza video E Visto che non è chiaro A molti Cercherò sempre Di portare Una puntata Ok Una puntata Di Italian farm E una puntata Di pro farming A settimana Se riesco Quindi Quindi ragazzi Ok E' inutile che nei commenti Mi dite Ah ma dove è Italian farm Se martedì è uscito Pro farming Il venerdì Esce Italian farm State tranquilli Perché C'è gente che veramente Si sta schierando Malamente Non malamente Per una delle due Serie Nei commenti Quando esce pro farming C'è gente che si lamenta Che non è uscito Italian farm E poi viceversa Io cerco di accontentare Tutte e due Italian farm È quasi alla frutta Ci ha dato tante soddisfazioni Un bel po' di puntate Rispetto a quante pensavo La prima stagione È durata solo 30 puntate Qua Mi pare che abbiamo già superato Al momento Le 50 Quindi Tanta roba Ok Allora Carrellino c'è E direi che ci possiamo Dirigere verso il campo Il campo che ho scelto È in realtà Un campo che abbiamo già visto Se non sbaglio Con questa trebbia O forse no Non mi ricordo Vabbè Comunque andiamo in cabina Sempre molto molto bella Questa Questa trebbia qui Tra l'altro Visto che molti di voi Sono interessati Penso abbiate già visto Che Sukaz Stavi dicendo Sukaz è tutto il team Che ha Perdonatemi se non mi ricordo I nomi di tutti Ma tutto il team Che ha collaborato Per far uscire Questa trebbia qui L'hanno già convertita Diciamo privatamente Se non sbaglio Per il 19 E ho visto che Stanno lavorando Anche alla sua Omologa Anche se non è proprio Omologa Della New Holland Adesso non vorrei dire Ma mi pare sia una L Non ricordo L'ho vista qualche mese fa E non sono così Esperto Sulle autolivellanti Da me si usano molto molto poco E l'ho già detto Un sacco di volte E quindi niente Quindi speriamo Di poter vedere anche presto Delle belle autolivellanti Su Farmsiulator 19 Ok Che fanno sempre piacere Molti di voi mi diranno Agro ma lo sai Che per godersi Le autolivellanti Ci va una mappa italiana Perché il discorso è sempre quello Se esce la mappa italiana La gente si dà la mente Che non ci sono le autolivellanti Se escono le autolivellanti La gente si dà la mente Che non ci sono le mappe italiane Io invece mi ramento Perché mi trovo delle balle In mezzo No vabbè Queste sono Le puntate di questa settimana Sono un po' strane Tra i pallet Che mi spariscono a caso In pro farming E le balle Lasciate lì in mezzo Ah no niente Ok ci sono appena arrivato Quella lì era una balla L'avevo anche detto Nella puntata del trinciato Nella terza parte Della puntata del trinciato Ok Autosalvataggio Grazie E ci salvi Perfetto Ora giriamo di qui Molto molto pericoloso L'accesso in questa zona Ecco Tecnicamente Scusate Ma io posso Guarda Provo a mettere In questa modalità qua Il trinciapaglia Che forse Tecnicamente Almeno da vedere È un po' meno Invasivo Del solito Ok Anzi Rispetto a prima Ora giriamo Perché è molto bello Utilizzare L'autolivellante Da sola Ma con il rimorchietto Io provo Ad andare Di così Ok E voilà Perfetto Il campo è questo Signori Direi che proviamo A metterci qui Questo è un campo Che abbiamo già visto Un sacco di volte Così andando Solo Andando proprio a memoria Mi pare che qui Abbiamo provato Il TG 285 Abbiamo provato Il Forse sempre Con l'autolivellante Se non sbaglio O con la Con la vecchia Fiatagri Non mi ricordo Abbiamo provato Il Il 110 90 Un sacco di mezze Abbiamo provato qua Su questo campo Ok Allora Qua non è Non c'è da aprire La trebbia Perché Non ha nulla Ad aprire Se non lo sportello Che però È un discorso Puramente estetico Quindi possiamo Semplicemente Attivare Non puoi Trebbiare Quando le culture Sono troppo umide Questa è una sorpresa Per me Due dirmi Che devo aspettare Un attimo Scusate Mi Ricompro Di nuovo Il Dove era In Bari Ecco qua Mi compro Di nuovo Questo Scusate Ok Girasoli Eh sì Umidità 24% Speriamo Vivamente Che Nonostante Sia autunno Asciughino Velocemente Io metto il tempo A 15x E nel mentre Noi portiamo Ma che Cosa fai tu? Questo è il pilota Automatico Che Come al solito Ci delizia Ok Tra l'altro Vi chiedo una cosa Vi interesserebbe Un nuovo video Su Kettle and Crops Per vedere Per vedere Un po' Le nuove Novità Perché sono andati avanti Io ho interrotto la serie Su Kettle and Crops Ma loro sono andati avanti Hanno aggiunto un sacco di cose Che ancora non abbiamo visto E magari Qualcuno di voi può essere interessato Non lo so Fatemelo sapere Magari con un commento Io provo Scusate Devo raddrizzarlo Perché altrimenti qua Mi va storto Pensavo fosse come Su FS19 Che prendesse in automatico Le direzioni Con i punti cardinali Invece no E continua ad andare storto Bene Niente da fare Lì ripasserò sopra io E niente E niente Ok Saliamo sopra Il Cos'è? Ah 87.000 euro Di entrata al biogas Ottimo Eccolo qua Il nostro John Deere 6210R Che non vorrei dire Ma mi sembra Il solito John Deere Riciclato già da FS15 Se non sbaglio Grande richiesta Per patate Bene Allora Andiamo indietro Non è lo stesso esatto verde Ma va bene lo stesso E noi ci dirigiamo Verso il campo Che velocità fa? Massima 45 Ok Direi che possiamo anche Togliere le Le sbarre Perché Non porto lo zaffrani In rimorchio Non la testata Perché Evo è un po' inutile Secondo me Possiamo aggiustarci Però magari Gli posso togliere Le Come era già Che si toglievano Le parti Mi sembrava Di avere Anche in multiplayer Di aver visto L'opzione Per togliere Le Le paratie Sopra Sopra Le Le paratie Ok Le sovrasponde Parliamo bene Agro moderni Mi sa Che ci sarà Qualche piccola Difficoltà Scaricare Ci potrebbe essere Ci potrebbe essere Ok Allora Ci fermiamo qui Questo è il brutto Di dover Tagliare i girasoli Cioè le colture Adesso E devi proprio Essere Messo bene E questo è uno Di motivi per cui Normalmente Si tagliano In Italia Chi ha la possibilità Lo taglia Ok Chi ha la possibilità Li taglia i girasoli Ad agosto Come avevo detto Anche in pro farming Perché effettivamente Già al girasole Deve essere conservato Un'umidità parecchio bassa Se ancora Se ancora vai verso In avanti Nell'autunno Diventa sempre più rischioso Raccoglierlo Va bene Io faccio un piccolo taglio Vediamo se riusciamo A farli asciugare in tempo Ok ragazzi Bene Siamo tornati Fra noi Ho dovuto aspettare Fino a luna Mi sembra Abbastanza corretto Diciamo no Adesso se provo ad andare qui Vediamo un po' Cosa che mi segna Adesso devo puntare Al terreno Ancora Quanto devo tenere premuto Ok Ok 19 Si vede che deve scendere Sotto il 20% Probabilmente Ok perfetto Allora direi Che possiamo Attivare Anzi Prima accendi Il motore Ma mi sembrava già acceso Vedevo già il fumo Vabbè Accendiamo il motore Accendiamo il rotore La testata È perfetto Possiamo iniziare Ottimo 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 Ora Vediamo un po' La velocità di lavoro 6 km orari Not bad Mi aspettavo ancora meglio Mi spiego Chi di voi gioca solo a farming simulator Comunque Comunque probabilmente Anche se gioca solo a farming simulator Saprà già questa cosa Con questo tipo di testate Specifiche Per i girasoli Si riescono ad ottenere Delle velocità di avanzamento Superiori Farming simulator Ci ha abituato Che a volte I valori Sono Un po' Esagerati No Che ne so Erpici Che ti permettono di andare Ai 20 all'ora O roba del genere Ok Magari su un terreno Che è molto molto sabbioso Su cui non ho residui Con un trattore molto potente Magari In condizioni particolari Con un erpice Particolarmente resistente Posso anche farmi Un quarto d'ora 10 minuti di lavoro Ai 20 all'ora Ok Però di norma I valori sono sempre molto più bassi Idem per la velocità di trebbiatura Che qua è in farming simulator E di norma I 10 chilometri orari Mentre invece Nella realtà Nei nostri campi E vi dicendo Si lavora A velocità decisamente più basse Per quanto riguarda queste barre a girasoli Viene detto Che normalmente Si possono utilizzare Per raggiungere velocità di lavoro Su farming simulator Viene scritto di 15 chilometri orari Visto che Non mi fidavo troppo Sono andato a leggere Sul sito della Zaffrani Che produce questa testata qua Ed effettivamente C'è scritto Che aumenta molto La velocità di avanzamento Possibile Anzi Supportata Ecco E raggiunge I 13 chilometri orari Che oggettivamente è buono Perché se parliamo Di una testata Piccola Per la raccolta di girasoli È un ottimo Risultato Non stiamo parlando Di testate Tipo la serie Eliantus Della Capello Che invece hanno Estensioni molto Molto più grandi E quindi è normale Che ci sia anche Un'attenzione Diciamo Verso la velocità E vi dicendo Perché chi le compra Tendenzialmente Vuole andare molto veloce Vuole raccogliere molto prodotto E vi dicendo Stiamo parlando Invece di testate Con la Zaffrani Che sono Tendenzialmente Un po' più piccole E quindi Sono pensate appunto Per un contesto Come quello italiano Vedete qua Siamo in pendenza La nostra Fiat Agri Che si autolivella E faremo fatica Con una barra Più grossa Uno Per la potenza Del macchinario Per quello che la Fiat Agri Può gestire E due Perché comunque Una barra Più larga Vuol dire Che O Si trova un modo Tipo penso Alle cressoni Per farle flessibili Per cui anche se Il terreno Non è perfettamente In piano Si sta dietro E quello ok Oppure se una barra larga Ed è rigida Rischiamo che O la dobbiamo Continuamente tenere Su e giù Alzare Abbassare L'altezza Oppure probabilmente Non avremo Un taglio perfetto E quindi Appunto Nei contesti Collinari Conviene avere Attrezzature Un po' più Strette Proprio per questo discorso Che ci sono spesso Avvallamenti E vi dicendo Però appunto Il discorso Della velocità È vero E mi sono informato Un pelo di più Per capire Che vantaggi Hanno queste barre qui E Quello che È più evidente E io non ci avevo pensato Perché Lievemente Ne avevamo parlato A proposito Della cappello E gli actus Nella puntata Di pro farming Uscita poco tempo fa Forse due settimane fa Queste barre qua Anche raccogliere Con la testata Da mais Il discorso È che devi seguire Come per il mais Il senso Di semina E se uno Non ha seminato In modo preciso Può essere un problema Queste testate Invece Ti permettono Di raccogliere Come se fosse Frumento Cioè Io posso anche Fare un taglio Così Vedete Nella realtà Posso veramente Fare un taglio Così In diagonale Perché Non ho bisogno Di centrare Perfettamente La fila Tanto Ho un'alta probabilità Che Lo stelo Del girasole Riesca a trovare Uno dei buchi Perché ce ne sono tanti Poi c'è Un'altra particolarità Che in teoria Sta nel rotore Qua sopra Che in realtà Vorrebbe essere Un aspo Aspettate In questa zaffra Di qua C'è l'aspo Ah si Ok È là dietro Ok Siccome vedete L'aspo è molto basso Serve perché Comunque Il girasole Può sgranare facilmente E al contempo Il girasole È una pianta Che potrebbe dare Problemi Di inceppamento E via dicendo Per cui c'è bisogno Che girino A velocità giuste Adesso vado A memoria Mi pare che Ci sia scritto Che La Ok Perfetto Che la Coclea Questa qua La vite Chiamatela vite D'archimedia Chiamatela coclea Come volete Aspettate Vediamo un po' Se Ah forse Non ho la gps Scusate Com'è che apro Il Ah forse così Ecco Questo qua E come vedete Questa qui La vite d'archimede Mi pare che Tendenzialmente Se è scritto Sul sito Della Zaffrani Deve girare A 170 giri Al minuto Mentre invece Questo Vedete che va Decisamente più lento Del battitore E tecnicamente Almeno su quelle Più recenti Poi non so dirvi Esattamente Su quelle Invece sulle Ultime barre Ok Perfetto Anzi Su quelle più vecchie Non so dirvi Su quelle più vecchie Se è uguale Comunque Su quelle più recenti Gira a 45 Quella Quella L'aspo Vero e proprio E questo serve Sempre a quel discorso Di non incepparsi Quindi sono barre Particolari Ovvio che Se uno Il girasole Lo fa Un anno Ogni tanto Cioè lo mette Nella rotazione Tanto per Non è sicuro Come ultimamente Ci ha abituato Anche un po' La PAC Parlando con Agricoltori Ma anche con Con lo stesso Giuliano Del canale D'Italian Farmer E lo stesso Giuliano che viene Anche qui Nelle puntate Che mi dice Spesso Ma guarda Io devo decidere Un pochino Le colture Ma devo anche Stare dietro Ai vincoli europei Devo pensare Un po' lì Devo pensare Devo mettere Qualche leguminosa E via dicendo O la condizionalità E via dicendo Quindi in realtà Nel momento attuale Visto che anche i prezzi Delle coltivazioni Sono veramente Altalenanti È raro Che ci siano Aziende Che dicono Buon faccio solo Girasoli O comunque Che dicono Faccio spesso Girasoli Salvo A reali Bocati Come penso Appunto Abbiamo già detto Game Pro Farming Le marche Che producono Adesso non mi ricordo Più che percentuale So che fra tutte Le regioni d'Italia Loro producono Praticamente Non la maggior parte Non il Più del 50% Del totale Ma sono La regione Che produce Più girasoli Di tutte Per varie questioni Che sono Sia dal punto di vista Idrico Dal punto di vista Del terreno Del clima E vi dicendo Come abbiamo già detto In questi areali Si raccogliono Anualmente ad agosto Proprio in questo periodo qua Da ferragosto in poi Tendenzialmente Mentre invece Chi li fa C'è stato uno di voi Che mi ha Comentato la puntata E mi ha detto Agro Guarda io li faccio Anche in Friuli Da noi si raccolgono A cavallo Tra settembre Ottobre Vedete C'è molta differenza È ovvio che Se dipende Dalle varietà Come al solito Del microclima Il discorso è anche Sicuramente Che le marche Appunto Saranno Avranno Temperature Molto più alte In media Ok Piano Per cui si potranno Permettere appunto Di arrivare Al Ok Alla fase di raccolta Molto prima Allora mi conviene Mi sa Mettermi in questa posizione Qui Se non sbaglio No Sì Perfetto Apriamo Il tubo Soprì la coclea Pappappappà Saliamo sopra il nostro John Deere Perché accendiamo Sì Forse Gli pneumatici Grandi Erano esagerati Perché sono Veramente Grossi Questi Non voglio Tirare dentro Al carrellino Ok Piano Ah e Volevo ancora Vedere se Per caso Riuscivo In qualche modo A togliergli Le zavorre Ma mi sa di no Niente Niente da fare Va bene Speriamo che ci passi Altrimenti dovrò cambiare Infatti Non ci passa Niente Ok A meno che Non mi metto più in basso Perché avevo già guardato Ho detto Tra tutti i rimorchi Che ho inseriti qua Come mod Qual è il più basso Che c'è E la mia risposta È stato Il valzelli Se riesco A togliergli Le Le sovrasponde Ma ovviamente Guardate Provo a fare una roba del genere Vediamo se Mi aiuta Molto irrealistica Ok Don't try this at home Scusate So che molti di voi Amano il gioco realistico Questo non è per niente realistico Non sono un fuorilegge Ma ho delle necessità Ecco qui Mamma mia Che brutta visuale Anche se Vi dirò Potrei anche farci una screen Andate Ne approfitto E' davvero lenta A caricare La nostra amica Qua dietro posso vedere No Non posso vedere Lo stas Anzi E' lenta A scaricare No Caricare Vedete Cioè Io vi ho fatto il taglio Ma per me è passato già Un minuto Buono E continua Continua ad andare così Ok Va bene Tanto non mi ricordo neanche più Quali sono i comandi In cabina Abbiamo questo Apri porto ad esse Che non ci interessa Apri coperchio tank Vi vedete Ok Ok Va bene Poi Qui cos'è che abbiamo Luce scarico Luce tank Va bene C'era qualcos'altro Di carino Non mi ricordo più Ah devo ancora abbassare il volante Effettivamente Magari qualcuno Mi aveva anche già scritto Qua sotto Niente Sopra Non mi pare ci sia nu Ah Magia Questo cos'è? Ah Luce cabina Ok Va bene Dai Ha finito Scusate per Scusate per L'irrealisticità Guardate però Vi faccio una prova Di come si arrampica Questa robetta qui Perfetto Vabbè che farming Nella realtà Sì No probabilmente ce l'avrebbe anche potuta fare Senza essere in raccolta Solo in movimento Molto più lentamente Ma ce l'avrebbe potuta anche fare Probabilmente Ok torniamo al lavoro Ci facciamo l'ultima fila Perfetto Ok Voilà E volevo farli i girasoli Prima di chiudere Perché se non li faccio qua Quando li faccio? Cioè no In farming ci sono già da un po' Di edizioni Però il discorso è che In Italia Effettivamente In certe parti d'Italia Soprattutto quelle che stiamo cercando Di disseminare Di Sì Di disseminare Oggi proprio non ci sono Scusate Di simulare Effettivamente i girasoli ci sono Nell'ordinamento delle culture Nelle rotazioni Vi dicendo Per cui è importante farle Il discorso che stavo Ecco forse non ho chiuso prima Il discorso che stavo dicendo Prima è Il fatto che appunto Ci sono aziende Che non ce l'hanno Così tanto Non hanno così tanto spesso I girasoli Per cui questa barra Potreste anche non vederla In alcune aziende Anche se fanno girasoli Però per il discorso Che vi dicevo prima È che Normalmente si possono raccogliere Anche con la barra Ok Da mais Andando un pelo più lenti Forse addirittura La barra da mais Ha un'accuratezza Di raccolta minore Perché qua Almeno Torno a dire Sul sito della Zaffrani C'è scritto che con queste barre La perdita è massima È di Intorno ai 3-4% Che è un buon valore Penso che con gli spannocchiatori Si alzi Lievemente La perdita di Cariossidi No anzi Non di cariossidi Di Di girasole Perso a terra Ecco Quindi Però appunto Tornando a noi Bisogna pensarci Perché la barra Non costa così poco Magari Se sei un terzista Ti conviene Non avere A meno che non fai Un sacco di girasole Ti conviene Compararti la barra Da mais Che così Anche puoi seguire Anche i tuoi clienti Anche quando fai mais Se sei Un'azienda agricola Che ha già Una sua auto livellante Magari un po' vecchiotta È lì Sta a te Magari Magari Non fai mais E a sto punto Ti conviene Prendere questa E vi dicendo È una cosa particolare Poi ripeto Io non sono in un areale Né di collina Quindi auto livellanti Assolutamente Non si vedono da me Ma a parte quello Si fanno anche Molti pochi girasoli Da me Ne ho visto Qualche campo Soprattutto andando Da Cuneo Dalla provincia di Cuneo Spostandosi Verso la provincia Di Alessandria Qualcosa ho visto Ma davvero Davvero poco Per assurdo Non vedo neanche Molta colza Adesso un po' di più Pian piano C'è più gente Che la sta seminando Ma Fino a un po' di anni fa Non c'era neanche Molta colza Quindi poi Ammetto che appunto Queste cose le so Perché l'ho studiata In università O perché l'ho studiata Alle superiori O perché conosco Ho parlato con alcuni di voi Ho parlato con agricoltori Però ripeto Che non è esperienza diretta Purtroppo Perché sui girasoli Proprio Nisba 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 Ok Perfetto Dai Qua stiamo andando avanti Io direi Che possiamo anche Concludere la puntata Mi sa che la metterò Adesso con il piotto automatico Tanto La lascio muovere Non penso che mi metterò A coinvolgere anche L'altra classe Ci ho pensato Perché ho detto A un certo punto Mi son detto Ma guarda Potrei anche comprare O noleggiare Una Eliantus Della capello L'attacco alla classe E mi faccio i campi Più in piano Però hanno talmente pochi Vi direi Che possiamo anche Farli fare Qualche oretta Alla nostra pietà Non fidatevi Del contatore Che c'è lì in basso Che segna 0.4 ore Perché in realtà Ne ha fatte molti di più Solo che Giocando in multiplayer Io faccio spesso Non casino Appositamente Tolgo alcune mod Per evitare Di dovervi far scaricare Tutte le mod Che ho utilizzato E quindi poi Una volta che finisco Le partite in multiplayer Mi rimetto lì Rinserisco le mod E devo ricomprare Quello che è scomparso Della partita Perché appunto Non c'era la mod Detto ciò Ok Direi che vi ringrazio Tantissimo per la visione Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Fatemelo sapere Con un bel like Noi ci vediamo Prossima settimana Con una puntata Di Pro Farming E poi probabilmente Una nuova puntata Di Italian Farm Sperando che finalmente Mi faccia raccogliere Le benedette Barbabiette Le controlliamo Se facendo passare Il tempo È cambiato qualcosa Ovviamente no Vedete che sono ancora Tutti questi campi Sono ancora tutti verdi In fase di crescita Io invece bisogno Di andare in Rimuovi stereo Niente Perché Cioè È importante Su questa mappa È veramente importante Far le barbabiette Più importante Che in Pro Farming Perché vi ricordo Che qua abbiamo addirittura Che qua abbiamo addirittura Lo zuccherificio Perché come nella Land of Italy Stiamo parlando di areali Della Romagna Forse più che della Miglia Della Romagna E quindi Diciamo che Di zuccherifici Per mai erano Anche in Emilia Se ne sente ancora parlare Nonostante Grandi flop Vi dicendo Ne abbiamo già parlato Apertamente In altre puntate Di Pro Farming Però È una cosa che voglio fare Visto che abbiamo Proprio l'edificio Di taglia di zuccheri E vi dicendo E tutto il resto Però appunto Le nostre barbabietole Ve le faccio anche vedere Se dovrei avere Un campo proprio vicino Guardate qua Sono qui Sembrano pronte Non sono pronte In realtà Boh Prima o poi Il gioco ce le lascerà Raccogliere Niente Direi che è da gromadarli tutto Come ho detto prima Se il video vi è piaciuto Fatelo sapere con un bel like Noi ci rivediamo Approssimamente Con un nuovo video Da Gromodarni È tutto Ciao a tutti ragazzi